Bentornati e pace bene. Oggi 19 luglio ricordiamo San Simmaco, Papa. Ascoltiamo. Nato in Sardegna in una famiglia pagana, Simmaco viene battezzato a Roma. Diacono della Chiesa romana viene eletto Vescovo di Roma il 22 novembre 498. Nello stesso giorno, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, è eletto un altro Papa, il presbitero Lorenzo. Inizia così lo scisma laurenziano, legato ad una profonda frattura, quella tra Oriente e Occidente. Per risolvere l'intricata situazione, innescata dall'elezione di due papi, si ricorre al giudizio di re Teodorico. Il re stabilisce che il legittimo pontefice è Simmaco. Il primo atto del pontificato di Simmaco è l'indizione di un concilio per fissare le modalità di elezione del Vescovo di Roma. I sostenitori di Lorenzo quindi accusano Papa Simmaco di corruzione. Il pontefice viene sottoposto a processo. Il re Teodorico convoca i Vescovi per giudicare il Papa e il popolo si schiera a favore di Simmaco. Non si arriva ad una conclusione del processo, ma emerge il principio giuridico secondo cui il Papa non può essere giudicato da nessuno. Lo scisma termina nel 506. Simmaco muore il 19 luglio del 514 e viene sepolto a San Pietro. Quella in cui Simmaco visse fu un'epoca un po' particolare, vogliamo dire un po' triste della Chiesa, perché pensate un po', c'erano addirittura due papi. Perché si vennero a creare due papi? Beh, vicende storiche, ma alla base c'è la divisione, che è un elemento bruttissimo, soprattutto per quanto riguarda l'umanità e la Chiesa. Il Papa, la figura del Papa, perché abbiamo un solo Papa e non ne abbiamo più di uno? È una domanda interessante che può sembrare banale, perché noi siamo abituati spesso a vedere un solo Papa e che quindi sappiamo che il Papa è uno. Ebbene, il Papa è uno perché Cristo, un uomo solo, ha affidato la missione di custodire in questa maniera particolare la Chiesa e quest'uomo è stato San Pietro e poi a lui sono succeduti altri uomini che hanno avuto questo ruolo all'interno della Chiesa. E perché se ne viene a creare più di uno? Perché evidentemente viene meno la fede. Allora guardiamo Papa Francesco in questo periodo della nostra storia e preghiamo fortemente per lui, affinché possa essere lui il legame, il ponte per tutti i cristiani. E se c'è qualcosa del suo ministero che non capiamo, non uniamoci a nessun tipo di critica, ma cerchiamo di scoprire la bellezza della voce di Papa Francesco e il suo voler curare tutte le anime per poter riuscire ad avere una grande Chiesa, una sola famiglia per Cristo e per i poperi. San Simmaco prega per noi.